È inevitabile che sarebbe, tra virgolette, più semplice riuscire a segnare prima. Se ciò non dovesse accadere bisogna avere la pazienza di aspettare e poi di colpire per cercare di ottenere una vittoria che per noi è importantissima, questo è fuori dubbio. Però sappiamo benissimo che dobbiamo avere grande rispetto nei confronti di una squadra come il Novara che è il primo anno dopo tantissimi anni in Serie A, sta facendo molto bene. È una squadra che io conosco anche molto bene visto che l'ho affrontata l'anno scorso e quindi bisognerà avere grande rispetto nei confronti loro. Sicuramente loro vorranno fare qualcosa di importante e di straordinario, sarà a noi essere più bravi a far sì che ciò non avvenga e a portare a casa noi i tre punti. Quindi quello che a noi deve interessare in questo momento è non guardare la classifica, anche se guardare la classifica sicuramente ci fa capire che stiamo facendo qualcosa di straordinario. Quindi vorremmo finire l'anno vedendo che il nostro lavoro è andato oltre le più ottimistiche previsioni, oltre le più rosee previsioni, questo è fuori dubbio. Però la classifica per noi non deve essere un... non ci deve creare ansia, non ci deve creare nessun tipo di situazione in particolare. Noi dobbiamo pensare a lavorare, dobbiamo pensare a migliorare giorno in giorno, ci sono tanti miglioramenti da fare. Quando parli di Europa e di sorteggi Champions Europa io non posso far altro che rosicare, quindi invidiare chi partecipa alla Champions all'Europa League. In questo momento ogni tanto sento dire a qualche allenatore, ma la Juventus non ha le coppe, ma perché non smettono già quest'anno in campionato di trovare una posizione per le coppe? Quindi così l'anno prossimo nessuno partecipa alle coppe, partecipiamo noi. Cioè è un invito che faccio a chi dice che la Juventus è avvantaggiata da non partecipare alle coppe. Allora io dico agli allenatori che fanno questo tipo di pensiero, ma chi li va a fare a qualificarsi per le coppe? No?